Grazie a tutti. Come diceva il vostro Presidente, io mi sono un po' allineato all'indirizzo che in qualche modo mi ha fornito e ho scelto un segmento di quella che è la vicenda urbanistica, riconducibile alle Mura di Siena, alle tante stagioni delle Mura di Siena. E allora ho proposto, e stasera mi farò partecipare, di presentare un segmento di questa storia che a me pare particolarmente interessante, perché ha delle specificità, delle particolarità che non si ritrovano spesso in altre città come Siena. Io parlo, mi limito al contesto regionale, però ecco, queste specificità, queste particolarità sono particolarmente interessanti e aprono anche delle prospettive in base alle quali, insomma si può veramente girare per Siena con altri occhi, questo è un po' anche l'obiettivo, no? E quindi con queste immagini, con queste considerazioni, con questi rapporti, con quella che è poi la storia più generale dell'urbanistica, dell'architettura e anche della città più in generale, insomma, ci si può rendere conto di situazioni un po' diverse, perlomeno che ampliano il modo di vedere certi luoghi e di appunto trarre determinate, anche sui gestioni, perché poi il contesto storico senese è particolarmente ricco. Allora, voi vedrete una serie di immagini relative, come si diceva, in particolare a quella che è la città che si è formata intorno alla piazza del campo. Questo perché ci sono lì, in particolare, determinati soggetti che aprono, come dicevo, delle letture nuove. Questi soggetti sono, in particolare, sono delle torri, delle torri che sono appartenute a una cerchia di mura, che al 95%, diciamo, ci sono ancora tutte e si vedono a diverso grado di conservazione. C'è solo una, insomma, ne parlerò, che è un po' svanita, ma dice che usano i documenti scritti. Per cui, questi sono poi soggetti di stasera che poi trascinano in sé questa lettura dello spazio che si è formato intorno alla piazza del campo. Devo dirvi che fino a otto mesi, dieci mesi fa, questa lettura sarebbe stata indirizzata solo a una porzione di questo anello di palazzi che chiudono la piazza. E in virtù di recenti studi, osservazioni, ecco, allora il quadro si è completato e questo sistema di città che sta intorno alla piazza è emerso anche in un'altra parte. Per cui, tutta questa, diciamo, corolla di città che sta intorno alla piazza si è un po' completata e stasera vi condurrò virtualmente addentro a questa città. Per cui, ecco, fatto questa premessa, voi vedete, io ho scelto questa immagine di una siena, diciamo, di 80, forse, sì, un'ottantina di anni fa, nella quale è presente un soggetto, è un barrocciaio con un grosso carico di farina indirizzato verso il sacco al forno. Qui siamo ai Quattro Antoni, in tempo si chiamava Triventum, nel 1999 e il 29, però oggi è piazza dei Quattro Antoni e quindi è questa la conosciamo. C'è questo personaggio, perché? Perché, a mio vedere, rappresenta un po' una sintesi che mi permette di presentarvi il metodo con il quale questa ricerca e sul quale questa ricerca è fondata. Il metodo si basa sulla definizione dei bisogni della città. In questo caso il barrocciaio rappresenta i bisogni di spostamenti, cioè i bisogni legati alla viabilità. E questo è un capitolo enorme, perché trascina con sé tutta una serie di considerazioni. E quindi lui rappresenta una componente di questo mondo legato alla viabilità. È una viabilità che sopravvive, e per questo è bella queste immagini, che sopravvive rispetto ai suoi tempi che gli stanno cambiando in maniera radicale, perché lui si accorge che questa città è cambiata. Per esempio, vedete, in alto c'è la linea elettrica del Filobus, che la città lungo le strade principali, dal nord, insomma, qui da Quattro Cantoni, per dire, fino a Porta Camollina, è la servilità del Filobus. E quindi nasce questa conflittualità, cioè questo scontro teorico tra un mondo millenario che finisce e un mondo moderno che inizia. E il nostro barrocciato si trova in questo, percepisce in vista questo cambiamento. Però, ecco, la città di cui parlò stasera è figlia dei barrocciati, cioè la viabilità, la struttura urbanistica della città più antica si è formata in funzione della viabilità a attrazione animale. Quindi, quando si dice che si analizza la città più antica, evidentemente bisogna analizzare le strade, e le strade si regolano in funzione delle esigenze degli spostamenti legati alla forza animale. Per cui, io ho preso questo esempio perché? Perché i bisogni legati agli spostamenti equivalgono ai bisogni di dove avvisare, ai bisogni di dove trovare l'acqua, ai bisogni come difendersi. Allora, legando tutto questo pacchetto, diciamo, di necessità oggettive della vita quotidiana, che si è svolta per millenni anche a Siena, ecco, e viene fuori un certo tipo di lettura che io stasera vi presenterò. Ecco, questa è una cartina di Siena dove i colori identificano le varie aree della città che si sono formate nel corso, diciamo che in questo caso possiamo dire, di oltre 1.500 anni. Quello che ora io vi sto, ecco, vi indico, questo perimetro qui, questo, ecco, tutto, scusate, questo qui che poi si perde ma in ogni modo, è il perimetro dell'ultima cerchia di mura, che qui si vede in parte, ecco, questo è il perimetro qualsiasi, queste campitude di colore invece corrispondono a certe stagioni della città e si parte da questi verdi, vedete, perché c'è sei verdi, qui siamo, qui siamo di nuovo nel luogo del barroccio, cioè ai quattro cantoni e questo è l'alto piano del Duomo, questo qui è l'area di Castelvecchio, questi due rettangoli, che vedete, insomma, le impronte di due castra romani, uno qui nella Tartuja, che siamo tra Pia Tommaso Mendola e le mura qui, lungo, qui, ecco, in questo punto, lungo via Svito Sarrocchi, e quindi un primo castrum, un secondo castrum nel piano della cattedrale, dove ora c'è Piazza Jacopo della Peccia, quindi due entità fortificate che si pongono nella scala, diciamo, gerarchica ai primi posti, non solo la prima cerchia del mura, ma sono già entità fortificate, riconducibili al periodo, questo probabilmente di epoca republicana e questo di epoca imperiale. Poi, vedete queste zone gialle, questo è Castelvecchio, qui siamo a Canegatto, qui siamo davanti alla cattedrale, qui siamo, questa è Rocca San Inveni, e qui c'è un'area fortificata, autonoma, questa gialla, un'altra la troviamo a Porta Camomia. Queste sono delle aree che in una analisi sequenziale dei fatti storici, dei processi di formazione, eccetera, queste sono riconducibili alle prime forme di insediamento, protesta da mura, riconducibili già nella fase in cui anche Siena fu investita dalle guerre vuotiche, dalle guerre, insomma, nel periodo ostroluovo. E quindi siamo in presenza delle prime forme di, diciamo, di forme di città protette. Però quello che mi preme sottolineare è il fatto che, come vedete, questi sistemi gialli sono sistemi urbani dove con molta probabilità la popolazione si è ristretta, quindi si è concentrata, si è dotata di mura e quindi formano un sistema diffuso di spazi urbani. Saranno le siene di cui ci faranno i documenti? Non lo so. Il fatto è che oggettivamente siamo in presenza di sistemi protetti che, appunto, comprendono certamente Casteldecchio ma poi, come mi dicevi, ne comprendono altri. Quindi queste sono le prime circole formative intorno alle quali. poi la città, progressivamente, si è dilatata, le ha raggiunte, le ha assorbite, le ha metabolizzate, le ha trasformate. Meno male qualcosa c'è rimasto e questo ci rida nella lettura di quegli frammenti di cui si parlava prima. Per cui, ecco, a queste zone gialle corrisponde, vedete, questa zona azzurra. Qui siamo alla costarella dei Barbieri, stasera la sciserò spesso, ci passeremo spesso. Poi qui siamo sotto il Duomo, questa è via dei Fusari, qui siamo davanti alla Rattedrale, qui siamo di nuovo ai Quattro Fantoni, qui siamo alla Porta di Stallo Reggio, le due porti, e questa zona azzurra che vedete, un erudito del 1700, Teofilo Gardacini, la chiama la Farfalla. E io sono d'accordo con lui perché, al di là di certe differenze di mura, per cui ognuno ha i suoi tracciati, però fortunatamente i limiti dei tracciati sono molto vicini, per cui è effettivamente una forma a farfalla e questa stasera ci aiuterà perché noi partiremo, dicevo, appunto da qui, e ci sposteremo verso la piazza del campo, eccetera, e questa forma della farfalla ci aiuterà a leggere diversi modi. Quindi, detto questo, questo perinetro di mura, guardate, è particolarmente interessante perché è riconducibile ai secoli dell'Alto Medue. quando soprattutto la città è stata, non solo, diciamo, è entrata nell'ambito dei carolingi e quindi è stata sotto il potere dei conti, eccetera, ma poi soprattutto è entrata nell'ordine dei Vescovi e sono stati molti i secoli in cui il potere vescovile si è esercitato particolarmente all'interno di questa... addirittura si può ritenere che proprio la realizzazione di questa cerchia di mura appartiene a questo periodo. Siamo nel X, 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 XI secolo, quindi è un periodo estremamente lungo e estremamente interessante, soprattutto per quello che poi, diciamo, permette di leggere sulla storia del Duomo, sulla storia dell'ospedale di Santa Maria, eccetera. Ora stasera alcune cose vedete. La cosa più importante qual è? Che ora dove sto puntando? Qui siamo nel... diciamo sotto la pupola del Duomo di Siena. Questo tassello che vedete oscuro è una sintesi estrema di un incastellamento di epoca non-murovalida sul quale la cattedrale di Siena si è adagiata, quindi ha funzionato come un su... diciamo una sottostruttura e questa sottostruttura ha condizionato poi tutti gli sviluppi architettonici delle varie cattedrali che su questo e intorno a questo luogo si sono succedute nel corso di vari secoli. Quindi è un argomento io stasera non lo tratterò, però l'ho voluto introdurre perché? Perché voi vedete che insieme a questo quadrato scuro ce ne sono altri che si, diciamo, sviluppano fino a Porta Camollia, investono la zona qui, qui siamo in Piazza Tolomei, investono anche la zona qua dell'archivio di Stato, Palazzo Piccolomini, poi via San Agustio Paglini, insomma il poggio di San Donato e quindi arrivano, come dicevo, a Porta Camollia. Queste macchie scure sono anche queste uno dei temi di stasera perché costituiscono delle forme di incasamenti, di incastellamenti, di rocche, di cui quella che più conosciamo è la rocca Salimelli, che ora vi sto indicando, e su questo ora riferimento. Poi c'è una fase, ed è quella in particolare di cui vi ho accennato all'inizio, di notevole interesse, nella quale la città dei Vescoli, questa zunza, si salda, e questo è il caso di dirlo, attraverso delle cerchie di mura, dei tratti di mura, che ora io sto seguendo, vedete, e poi rappresenta un po' questa parte scura, questa, stasera, guardate, noi siamo esattamente qui, alle mie spalle, davanti a voi, c'è un tratto di queste mura, che furono realizzate, ora vi vedo meglio, quando, quindi c'è questa struttura, di salvatura, che parte dalla costarella dei Barbieri, per essere più preciso, parte da dove oggi abbiamo la farmacia, il campo, in Piazza del Campo, parte di lì, e ritorna poco prima, in questo punto, si chiude, poco prima della salita, della piaggia della morte, siamo sotto la chiesa di San Desiderio, dove riaceremo il cristalante, va bene, questo punto qui, che vi sto indicando, è un tratto urbano, di 42, 43 metri, è un punto di salvatura, dove la città si chiude, e si congiunge, alla città dell'esco, un tratto estremamente sottile, che cosa possa denunziare questo, forse è una diffidenza, il fatto è che, in questo corridoio, avvengono fatti di grandissimo interesse, stasera li accenderò, quindi, all'interno di questa zona grigia, vengono comprese, queste strutture di carattere, come vi dicevi, questi veri e propri incastellamenti, questi incastellamenti, che hanno i loro nomi, appartengono alle grandi casate senesi, ne vedremo una stasera, in maniera in particolare, che non è quella dei San Iberi, ma sarà quella dei Foromei, esattamente questa, e che costituiscono quella particolarità, quella specificità che si riscontra a Siena, leggendo i muri, leggendo le piazze, andando nelle cantine, o sarendo in cima ai detti, insomma, osservando la città in maniera, in maniera, come dire, il più possibile analitica, ma soprattutto da un punto di vista fisico. Per cui, continuando questa sintesi, volete, che c'è poi, una zona più campisa, più rossa, che è questa che vi indico, questa qui, che si chiude in questo punto, ed un'altra. Ebbene, questa parte della città, viene racchiusa da questo montano, nei primissimi anni dell'Ide 200. La città è, non più, amministrata dai consoli, ma viene amministrata dai primi podestati. E non lo so, se Bartolomei e Minaldino, il podestati, a attribuire questo progetto di espansione urbanistica, importantissimo, guardate. Perché? perché nella prima fase per cui ho accennato prima, questo arco di mura che va dalla prostarella dei Barbieri fino al palazzo Piccolomi, che ora potremmo anche chiamare la Rocca Piccolomi, viene sostituito, di fatto, da un nuovo tratto di mura che scende, questo è il camminone di piazza, ci si riempie, no? Quindi, a poche decine di metri da palle del camminone di piazza, a circa 30 metri dal palazzo comunale, viene attraversata la piazza da questo tratto di mura. E quindi, in questa stagione, in questi anni, nei primi anni del Dio Genito, alla metà del Dio Genito, queste due modesti espansioni urbane, cosa fanno? Finalmente, allargano questo corridoio di 43-44 metri, che era troppo stretto, e quindi, portano all'interno della città protetta uno spazio, un campo fuori, che poi era noi oggi conosciamo come piazza del campo, e portano dentro uno spazio più grande, questo qui, che vedete, che è quello, questo parte, qui siamo in piazza indipendente, e questo tratto traversa Fonte Branda, sale verso via di Valle Piatta, gira nella piazzetta della Selva, dove c'è la fontanina, anche in Calezi, e poi entra dentro all'ospedale, vicinissimo alla facciata di Valle. La facciata di Valle dell'ospedale, di fatto, è appoggiata su questo tratto di muro che vi sto indicando. Quindi, che succede in questi primissimi anni del 1200? Succede che si creano le premesse perché all'interno del campo foro nascano le prime strutture, la prima struttura che poi darà origine al palazzo dei comuni che si conosce, che si conosce, non solo, ma poi un campo, il campo San Paolo che si trovava dentro a questo stretto corridoio e in parte qui davanti a dove oggi c'è la logia della mercanzia, il campo San Paolo di fatto trova un'alternativa nel nuovo campo di mercato che sarà ed è il campo, la piazza del campo, il campo fuori. Quindi, come vedete, è un periodo estremamente importante per questa struttura. non vi impressionate adesso che sto molto su questa immagine perché questa poi ci aiuta a leggere in maniera più veloce le sintesi grafiche che seguono. Per cui, ecco, a questa stagione siamo nella misura del 1200, siamo pochi anni prima della battaglia dei Montaperti, i potestà, i nuovi potestà realizzano questa cerchia di mura scendono nelle vallate, inglobano il poggio di Cane e Gatto di San Maurizio, vedete, qui siamo a Porta Ovine, salgono verso qui c'è Pia Don Mizzoni, salgono, ecco qui, salgono verso e si collegano. Qui siamo vicinissimi al Campanzi e qui abbiamo la Porta di Guaiato. Dall'altra parte, qui siamo davanti al Garage Busi, io uso questi termini perché sono termini del quotidiano, quindi facilitano la localizzazione, quindi siamo all'inizio qui dell'Arconto di Garage Busi. Questa, che vedete, è una rocca che a questo punto anche lei, questi sono i casamenti dei figli dei malavolti che vengono portati anche loro all'interno della città. qui siamo a Porta Fonte Branda, il bastione del Costone e poi qui nella piazzetta della Serpa la congiunzione di questa cerchia lingua. Questa area prosetta ha un respiro, una modernità che le altre aree protette non avranno. Prima di tutto perché scende nelle vallate. Scendendo nelle vallate finalmente porta dentro l'acqua, cosa che questa città di Rinale che vedete lì non aveva permesso perché l'acqua era distante quindi invece in questa maniera la città porta al suo interno per esempio la fonte Branda quindi una per tutte porta all'interno altre fonti insomma tutto un sistema diciamo umido che permette alla città di progredire in senso idraulico della provvigionamento idraulico per cui questa questa struttura nell'arco anche lei di una quarantina 50 anni va in pensione viene dismessa viene dismessa e viene realizzata questa che conosciamo che è l'ultima cerchia delle nuove quindi è un è un è un ampliamento enorme questo qui e poi lo vedete anche in queste catine è ben noto è un ampliamento enorme è un ampliamento di una città che sperava molto nel futuro e che invece soprattutto a causa della cristianza del 1348 vive frustrata queste sperate in questi programmi e che cosa ha fatto è rimasta in prevalenza in grande prevalenza una zona agricola mentre questa rossa che vedete che è appunto della seconda metà del 1200 si è diciamo densificata di edifici è stata strutturata è stata occupata dalla città costruita l'altra questa è rimasta prevalentemente un'area agricola e questo è anche il suo il suo pregio per cui ora per alleggerire questa cosa però ripeto è un questo siamo qui siamo di nuovo in piazza dei quattro cantoni questa torre esiste è una torre incorporata si vede all'inizio di via standorecci e qui cosa è indicata è indicata la metà della farfalla che voi fate vedere prima cioè quella che attraverso la cerchia di mura scendeva qui siamo alla Rocca Deci nel punto dove indico ora c'era libreria Senesi questa cerchia di mura passava sotto la chiesa di San Desiderio quella del Cristo Nante incontrava la porta salaria più antica qui ora c'è un pozzo scala interessantissimo seguiva questa linea verso piazza San Giovanni stava sopra a via dei fusari incontrava una serie di strutture vedete e poi si congiungeva di nuovo in questo punto qui siamo alla Costiella e questa è una delle porte di accesso della città perché questa cerchia perché ho voluto perché qui ci sono delle indicazioni fondamentali intanto vedete questa cerchia di mura e soprattutto questa torre qui questa è la torre del palazzo Marescotti dove c'è la Cigiana anche questa la ritroveremo poi le altre queste qui sono lungo via di città fino ad arrivare a questa appunto della Rocca 10 dove questa città alto medievale terminava per cui la zona qui diciamo questa sella la coscarella dei barbieri che è qui era ancora esterna alla città e c'era naturalmente una strada che scendeva verso Fonte Brandi allora qui mi dispiace che non si vede la fonte ma insomma in questa zona c'era Fonte Brandi questa è la via del Costone che a un certo punto oggi è interrotta ma arriva alla sua continuità qui ho questa via di Valle Piatta poi qui c'è la via del Pozzo e questa che vi indico ora è la via dei Fusani che passava vedete qui sotto questa strada c'è anche ora è la famosa strada interna dell'ospedale Santa Maria della Scala trovava questa zona qui con la porta di Santa Anzana e veniva alla porta della Costiera in questo punto in questo punto una cosa che vi voglio dire questa città ha delle sue caratteristiche che oggi non esistono più l'unica cosa che è individuabile è questa cupola che se ne sta sotto la cupola dell'uomo la cupola dell'uomo è doppia quella che è sotto questa che vi sto indicando è la cupola dell'episcopio cioè un cattedrale romanica che prese il posto di quel castello che non guardano che io ho fatto prima transitando prima dalla da un palazzo vescoviglie il palazzo vescoviglie da origine sul palazzo vescoviglie viene realizzata questa grande cattedrale serese che ha una sua canonica i canonici hanno vedete un convento cioè hanno un chiostro cioè tutta la struttura eventuale i canonici dell'uomo sostanzialmente gestiscono questa struttura ma iniziale questa ne gestiscono un'altra e vi indico ora che è qui e che tutta una serie di indicazioni documentali eccetera ci permettono di localizzarla in quella che oggi è la piazza 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 ovvero l'ospedale di Santa Maria Antegrados cioè davanti alla scala da non confondersi poi con un altro ospedale di Santa Maria che ancora qui non è indicato perché non è entrato nella scena in scena che sarà l'ospedale di Santa Maria e che poi nel corso del tempo diventerà questo l'ospedale semplicemente non più davanti alla scala ma semplicemente della scala quindi è una città dove il potere si è strutturato finisce prima della costa dei barbieri ha una evidenza nel complesso diciamo del perimetro della città fortificata vedete è questa parte è questa parte rossa quindi è una parte minima ecco queste immagini è di nuovo è un'altra angolazione visiva voi vedete che in marrone è indicata la città di oggi in varie zone la chiesa di San Domenico qui siamo in La Stufasecca qui siamo in Piazza Provenzana e la città di oggi è indicata solo perché ci si possa orientare sulla lettura di quelle parti rosse che sono il soggetto di questa tavola per cui qui è riproposta di nuovo la qui vedete l'episcopio la scala questo questo è una specie di edificio perché perché se abbiamo indicazioni dove poteva essere l'ospedale di Santa Maria antegrados non abbiamo indicazioni su come poteva essere fatto però insomma qui tutta una serie qui c'è ancora presente il castrum romano che vi ho fatto vedere all'inizio quel tassello di colore verde e ci sono le mura lungo l'attuale via di città questa è la sua prima riscotti e poi ce ne sono altre lungo questa cosa questo è il palazzo un'altra torre qui siamo nel vicolo del Bargello in questo punto qui esattamente e questa è la rocca delci questa torre in questa struttura fanno parte del primo numero del palazzo dei città che si affaccia sul via di città e poi ecco la chiesa di San Desiderio la porta salia quindi il Travalum questo luogo dove in sostanza le strade che salivano dalla valle di Montone verso la valle piatta cioè verso Fonte Granda si incrociavano e fornavano il Travalum oggi noi sappiamo che il Travalum era davanti alla loggia dell'americanzia ebbene insomma questo luogo che vi sto indicando ora dovrebbero ascoltare ecco in questo punto in questo punto io ritengo che sono una vittima non non pretendo più di tanto penso che debba essere un po' di visitare dal punto di vista dell'attribuzione per cui qual è la caratteristica ecco di fondo di questo sistema è quel sistema diffuso di cui vi ho parlato all'inizio dove guardate sono presenti delle forme di incastellamento una questa un'altra questa qui un'altra questa ancora questa e allora questa è stata indicata come la rocca del tolomenio questi edifici che vedete queste torri esistono tutte come esistono gran parte di questi settori di muri che le congiungono oggi dovendolo andare a visitare la troviamo divisa in mille condomini quindi bisogna bussare a tante porte però mettendo insieme le varie risiche ecco che si arriva a definire un organismo di questa natura nella prima tabola che ho fatto vedere questi vari tasselli ecco lungo il finale in questa zona qui ce ne sono non meno di dieci di queste strutture in gran parte ben conservate una sola questa la rocca dei malavolti di cui rimane buona parte di questa torre e poi rimane questo nucleo quindi ora dove vi stiamo dicando c'è il barziano questo cassero è stato diviso dal via dei malavolti quindi questa rocca è di difficile individuazione le altre invece sono molto molto più semplici questa dei piccolomini la risproveremo qui oggi c'è l'archivio di stato questa dei salvani di cui abbiamo il cassero e buona parte di questa torre oltre a questi muri di collegamento abbiamo la rocca Salimbeni questa è una versione light della rocca Salimbeni in realtà la conosciamo molto più strutturata molto più grande e poi ecco questa è via Montanini qui non è indicata ma in questa zona in alto c'è la via scusate c'è un incastellamento il cassamento dei montanini anche questo fortunatamente al 90% e ancora esiste anche lui è diviso fra tanti condomini ma esiste e altre qui non sono indicate verso verso l'ordine mi sembra l'arrivo indicato un po' sotto la cosa che vi dicevo sul quale conviene ritornare è il fatto che intorno alla chiesa intorno alla chiesa di San Paolo e questa è la chiesa di San Pellegrino qui si sviluppa il campo il campo San Paolo questo è l'elemento più importante di questa nostra ora io ho scelto un'immagine questo è il cosiddetto palazzaccio di Toiano siamo nel comune di Soviciglie a confine del comune di Siena è un edificio documento di grandissima importanza perché è arrivato fortunosamente a noi quasi integro io l'ho scelto perché se noi ci dovessimo immaginare quelle rocche di cui ho parlato quella di Colomento sulla quale poi ho come potevano essere fatti queste rocche che tipo di emergenza potessero aver avuto nei confronti della città che gli stava intorno allora l'effetto lo possiamo faragonare possiamo prendere in prestito il palazzaccio di Toiano e prenderlo a questa incombenza volumetrica architettonica di questi incastellamenti rispetto alla loro città oltretutto non solo ci sono delle analogie di tipo architettonico per esempio questo cassero qua su che vedete ecco questo cassero qui questo cassero qui se voi avete modo di visitarlo è sorretto al centro alla base da un pilastro da un unico pilastro al centro che poi regge con delle volte a ombrello tutto il resto dell'edificio ed è un magazzino è un magazzino come questo tipo di magazzino si ritrova in gran parte di quelle rocche di cui vi ho parlato nella rocca Sanimbeni c'era un magazzino c'era è stato quotato purtroppo però c'era un magazzino uguale a questo in altre rocche di Vene ce ne sono altri è una tipologia che si riprese per cui questo esempio è utilissimo per in qualche modo figurarsi questa realtà urbana di una siena guardate qui bisogna anche stabilire quando qui siamo penso negli anni nei primi settori dello scorso millennio cioè siamo nel 1000 siamo nel 1100 siamo in una città che appunto ancora non le ha raggiunte non le ha raggiunte sono entità separate ecco guarda qui questa foto non so se è chiara qui si vede la torre che no guarda però esagerato ecco in alto vedete è la cosiddetta torre dell'Orza quella che riguarda piazza indipendenza e qui la ritrovate su questo questa selezione grafica eccola qui vedete e poi la ritroviamo anche qui questa è la chiesa di San Paolo la chiesa di San Pellegrino eccetera questo grafico intermedio vuole simulare una situazione nella quale quelli che qui vedete i tetti eccetera potessero essere paragonati ad una invasione di sabbia cioè dire come se questa città se i tetti fossero sostituiti da una una colmata di sabbia dalla quale potessero essere cioè si potessero leggere come si leggono nella foto determinati edifici questa torre questo edificio vedete che poi sostanzialmente eccolo qua vedete questo è Erra quello più alto allo stesso modo del palazzaccio di Tegano è sorretto ancora oggi da un pilastro centrale che regge poi a un certo punto con delle volte a ombrello tutto il resto dell'edificio quindi l'importanza del palazzaccio di Tegano inteso come modello di riferimento poi qui si intravede il palazzo di oggi questo azzurro questa torre questa torre qui poi è questa che noi la conosciamo dai documenti come torre dei Mignanelli anche se queste cose possono essere in qualche maniera riviste poi abbiamo altri ecco questa torre qui poi la vediamo la vediamo ecco qua questa questa fa parte del complesso degli edifici della banca della banca d'Italia scusate della banca in via delle termi in via delle termi la banca di oro e il banco di oro grazie e anche questa esiste ora in questo edificio in questo disegno in basso è diciamo simulata la situazione in cui il vento avesse portato in tutta questa massa di sabbia che ricorriva l'immagine precedente e quindi avesse permesso di scoprire questa città che sta sotto e insieme a queste strutture per cui abbiamo qui ecco qui siamo a quella che diciamo oggi la croce del travaglio qui c'è un negozio di abbigliamento intimo questa è la torre dei terzi qui siamo esattamente nell'ingresso del ristorante dei terzi qui invece c'è un piccolo negozio di orificeria siamo in via dei termini qui ci sono i termini i famosi la divisione di terzi della città questo è la questa è la questa è la versione originaria del palazzo dei solomei che aveva anche una sua torre questa c'è rimasta ma bisogna scendere più nel cavo gentilmente è stato permesso e quindi questa torre si vede ancora qui c'è di nuovo un negozio di biancheria intima qui siamo davanti al bar Nannini o come come si chiamano e quindi tutto questo insieme che voi vedete è un'identità reale io ho chiamato l'ho chiamata Rocca dei solomei perché poi nei documenti soprattutto nell'estimo del 1318 noi vediamo che gran parte di questa città che è intorno e dentro a questa struttura è di propria dei solomei qui siamo molti secoli prima però per la presenza storica di questa famiglia la sua continuità nelle vicende storiche e quindi soprattutto questo estimo del 1318 ci dice che qui c'era una densità elevatissima ancora di proprietà dei solomei anche se si può risiedere che già a quel tempo si è cominciata questo effetto diciamo di separazione delle parti di sgregazione di questa struttura che poi ha continuato anche anni dopo si è dilatata ulteriormente verso noi ora qui anche un breve flash per darvi un'idea che siamo alla croce del travaglio e su questa immagine cinematografica è stata ricostruita una sagoma questo è uno schizzo vi perdonerete ma insomma ecco questa è la torre su piazza indipendenza qui c'è il negozio di abbigliamento intimo questa cosiddetta torre di Mignanetti quel palazzo Cassero con il suo magazzino a piano terra e qua giù si intravindi la chiesa di San Cristotolo con la sua piazza rimanendo alla croce del travaglio questa è la loggia della mercanzia su questa fotografia attraverso un sistema fotogrammetrico è stato ricostruito questo panorama urbano di cui ho parlato e in particolare guardate qui siamo qui in questo punto come sapete c'è il negozio di cioccolata e siamo esattamente qui qui c'è un bar il bar è compreso dentro a questo perimetro e questa è la sagoma della chiesa di San Paolo con la sua apsine questa tribuna con una sua cisterna importantissima che è nei documenti soprattutto del costituto latino di 1262 dove si traggono una serie di informazioni di carattere anche urbanistico su tutta questa su questa zona qui siamo nella zona di sella tra la valle di Montone a piazza del campo e la valle piatta verso Fonte Brana in fondo la più antica porta salarica la chiesa di San Desiderio queste mura queste mura questa torre dove indico ora c'è la libreria Sinesi guardate la scaffalatura dentro la libreria Sinesi questa torre è nell'ingresso della Rocca Lecci su un via di città tutto questo complesso all'interno della Rocca questa è la torre del Bargello il vicolo del Bargello in questo punto e questa porta probabilmente porta della vacca qui c'è un negozio di bozze e questo in questo punto qui scende il vicolo del Bargello l'altra cosa importantissima questa struttura che vedete qua è un'altra di queste Rocche oggi questo edificio qui è incorporato nella struttura dei Rozi e questa torre non esiste più è stata demonita e su quest'angolo qui appoggia in quel grande filastro della sala della suvera della suvera dei Rozi il grande filastro che a ombrello non è un magazzino insomma lui a ombrello sorregge la platea del teatro dei Rozi quindi ci sono strutture di una certa notevole importanza che nel corso del tempo sono state riutilizzate però ecco questa parte che vi sto indicando ora qui dentro ci sono i locali dei Rozi qui c'è la sala degli specchi per cui il campo San Paolo uno spazio importantissimo con il suo mercato questa è la cosa che mi permette sottolineare o qui ora con le cose dette praticamente c'è di nuovo la riproposizione questa qui come vedete è la piazza del campo il rosso indica il crinale e queste azzurne le rocche di cui vi ho parlato in particolare quella di Solomeni che è quella che vi sto indietro quindi si può andare più veloce o permettetemi di tornare un attimo indietro ecco la cosa che vi voglio il tema di stasera non era più specifico qual è è che questa saldatura che avvenne e che partì qui dalla Roccas Deci alla Costarella è diciamo configurata come un mezzo arco di cerchio vedete che si fide qui al chiasso l'arco questo arco di cerchio è un arco di mura questo arco di mura ha le sue torri queste torri stasera le vedremo e vedremo anche un tratto di queste mura qui c'è un schema una specie vedete è un disegno in sovraimpressione dove abbiamo la Costarella abbiamo la prima torre che i documenti la identificano come la torre a Carigi il palazzo a Carigi qui la torre la Rocca Deci questa è quella del Bargello questa invece è quella del del che i documenti ci indiano come la torre dei figli di testa è ancora il Costituto del 1262 che ci dice che ci dà la presenza devo dire questa torre malgrado le ricerche fatte anche nei sotterranei eccetera ci è rimasto ben poco il documento il documento è preciso e ci permette di realizzare poi sopra eccola qui si vede anche meglio queste sono le melature della torre Malescotti della Cigiana questa torre è importantissima poi dall'altro lato ecco partendo di qui dalla Costarella questo nuovo arco di cerchio che va fino a questa torre e qui siamo nel palazzo Makoni Kiji oggi Kiji Zondarai la torre la vedremo esattamente sull'ingresso e quindi ci sono tutta questa sequenza di cui di torre io lo parlerò e che cosa ha fatto guardate in sostanza nel corso di tanti secoli perché il tempo di realizzazione di questa cerchia è riconducibile agli anni 60-70 del 1100 è un tempo particolarmente devo dire duro anche per la storia senese perché Siena è investita dal periodo di sconto tra il papato e l'impero e cioè tra Federico Barbarossa e Alessandro III Bandinelli Papa Senese della famiglia dei Bandinelli quindi Siena insomma è dentro alla grande storia nazionale è una città che ha paura i signori delle rocche hanno paura e cosa fanno? mettono a comune le loro rocche e quindi si saldano con quelle mura di cui vi ho parlato prima e tra queste saldature tra questi collegamenti cioè appunto tra la rocca Dici e la rocca dei piccolomini e questo è il complesso oggi qui c'è l'archivio di Stato c'è tutta la struttura e il palazzo piccolomini quindi lungo quest'arco di cerco probabilmente più vulnerabile di altri perché più dosato di altri di torri anche questa è una specificità di questo perché se ora non è il tema di stasera non vi preoccupate ma se seguissimo noi questo circuito fino a Porta Amulia una densità strutturale difesa come questa noi non la troveremo per cui ecco qui per essere più precisi vedete su una base cartografica precisa sono state indicate con questi tasselli scuri sia le torri vedete questa qui allora queste via banchi di sotto qui siamo alla torre del travaglio questa è via di città fino fino ad arrivare ecco la cosa questa è la torre marescotti chigi questo è il palazzo della chigiana poi c'è indicata anche un'altra cosa importante indicato questo edificio che costituisce in sostanza il primo edificio intorno al quale e sopra al quale si è stato costruito il palazzo del comune di Siena e lo troviamo esattamente nelle strutture di base di questo torrione il torrione centrale del comune è appoggiato su questo edificio quindi è una una puntualizzazione che la prendo da qui perché sarà utile richiamarla ancora il nostro edificio del comune non è entrato in in scena questo solo perché vi possiate rendere conto orientare nella lettura ecco questo è un disegno un po' di alleggerimento è un disegno fatto su una foto scattata dalla Torre del Mangia e perché ci si possa orientare nella lettura questa è Fonte Gaia questa qui è il perimetro della piazza con i suoi estensionati va bene e questa è la pista se la vogliamo chiamare così ma meglio sarebbe chiamarla la Chirlanda in un serbio a un documento del 1347 perché è legato poi a un fatto una parentesi la chiedo subito alla realizzazione fisica della piazza e il documento dice che insomma le donne portavano la terra per colmare sostanzialmente tutto questo che conosciamo come l'interno della piazza della piazza del campo per cui allora ecco vedete qui c'è indicata in maniera molto essenziale questa cerchia di dura partendo partendo da questa torre che vi dicevo appartiene al palazzo oltre al palazzo ma era maconi questa torre dentro il palazzo San Silvone le vedremo poi questa dei neancone tali questa purtroppo non la vedremo perché mi è saltata l'immagine ma vi posso dire che qui c'è il vicolo dei borsellari che scende da via anche di sotto in piazza del campo questo per potersi orientare c'è un negozio di biancheria all'interno di questa torre poi abbiamo questa invece io l'ho indicata come saracini ma i documenti non ci permettono di indicare chi a un certo punto ha comprato questa torre qui però sappiamo qui c'è il vicolo di San Pietro quello che dalla croce del travaglio scende in piazza del campo questa torre questa fortunatamente in buona parte è rimasta dentro il ristorante Il Mangia qui c'è la cucina del ristorante Il Mangia e sopra c'è andata la loggia della mercanzia la chiesa di San Paolo di cui vi ho già parlato questa torre saracini lì questa è di fronte a via di Veccheria di Veccheria no non Veccheria siamo no c'è la strada il collegamento tra la costarella e Veccheria a fianco del palazzo dei Luzzi dove c'è un ristorante insomma lo troveremo quindi questa oggi c'è un negozio c'è il negozio Max di abbigliamento qui siamo alla costarella ecco vedete i colonnini per orientarsi questa la torre a Carigi queste rosse sono le soprelevazioni che nel tempo sono state apportate sopra a questa struttura la torre e poi la torre di Lambertini di Magda Sala e qui ecco siamo sul vicolo del Vaggello che vi dicevo quindi questa è una porzione di tutto questo di questo sistema che ha una caratteristica cioè c'è una strada interna questa questa è via di città e poi ha un'altra strada interna qui eccola qui che è via Banchi di Sud poi questa non esiste più ma tutte queste torri avevano una strada che le lambiva lungo la parete di Vande queste erano carbonai e queste erano luoghi di servizio non erano vere e proprie strade oggi questa strada si individua perché semplicemente ci passano le fognature le fognature neve insomma tutta una serie di servizi è sopravvissuta in questi termini e poi naturalmente lo vedremo meglio dopo ci sono altre indicazioni ebbene a questo punto brevemente che adesso è fatto sì siamo in questo siamo in questo brevemente faremo una cancellata il percorso virtuale per leggere per individuare queste queste la prima che troviamo sopra questo è un disegno credo sia della prima del 1500 vedete il palazzo Piccoloni questa torre in fondo qua giù chiamata Maconi che era all'epoca altissima ma soprattutto abbiamo il nostro pittore ci raffigura questa torre che è quella del palazzo attualmente del palazzo Chigi Zondadari ed è questa qui dove è stata ricavata l'ingresso lei arriva fino alla sommità del tetto ancora oggi era altissima e anche questo vedete il senso della prospettiva ci dà la linea all'altezza del palazzo del palazzo Piccoloni quindi era estremamente alta e tale è rimasta questa è la prima che incontriamo poi incontriamo una sua gemella vicissima eccola qui questo è come sapete il palazzo Sansegoni questo è l'ingresso del palazzo Sansegoni la torre gemella di quella è questa del negozio Ricci questa struttura anche lei arriva in alto fino al tetto ha subito un look piuttosto pesante è stata rifollerata di pietre nel settecento queste finestre poi nel trecento quaranta fu fatto il palazzo il palazzo Sansegoni sulla sulla via insomma su quella che oggi è via banchi di sotto e quindi però la struttura ancora nei sotterranei si individua benissimo e questa torre è importantissima perché è alla base della storia dei Sansegoni perché c'è Buona Sacca di Sacca che nel 1347 compra da una certa signora Aghina questa torre e il palazzo il palazzo che era qui accanto in questo punto e quindi questa torre insomma questa propria entra anche nella grande storia nella grande storia senza quindi quindi ora io vi devo scusare perché in questo punto siamo all'inizio di via dei Bolzellari e in questo punto c'è un'altra torre che qui purtroppo non si vede comunque cioè non si vede l'ho saltata però vi ho indicato qual è per cui tornando un attimo sull'ingresso del palazzo Sansegoni che poi è questo vedete questo è l'ingresso proprio sulla strada ebbene le ricerche che sono state condotte portano a ritenere che noi siamo in presenza di una vera e propria porta di accesso dal campo verso l'interno della della città come si chiamasse non lo so è probabile che si chiamasse la porta di Mar Cucinano perché da qui partiva la strada che poi entrava in Sanicotto e che si chiamava di Mar Cucinano che confluiva con la sua porta nella via nell'attuale via di Sanicotto quindi qui questa è una struttura di grande di grande interesse poi vi dirò anche quali sono gli altri elementi che concorrono a identificarla come porta di accesso alla città quindi saltando la torre di Anconesani noi veniamo a questa torre eccola qui anche lei è stata soprelevata questa la conosciamo bene qui siamo nella procedura di trovare questo è il vicolo di San Pietro e quindi sono strutture che nel corso del tempo hanno subito vari tipi di modifiche devo dire che questa se voi vi affacciate da qui e guardate questo spigolo che vi sto indicando voi vedrete un messaggio non troppo piacevole nel senso che qui c'è una deformazione strutturale sensibilissima perché durante qualche terremoto non so quale forse quello del 1798 qui c'è stato un distacco nettissimo tra la torre e questa parete perché la torre è stata molto resistente ha retto oscillazioni invece gli edifici di sutura che sono questi più labili più deboli eccetera si sono distaccati e qui si vede bene si intravede l'immagine questo distacco sensibile questa notazione o un altro luogo importantissimo e su questo poi ci ritornerò anche è il vicolo di San Paolo il vicolo di San Paolo questa parete che vi indico è ritrovata sopra a un'altra torre per costruire la loggia della mercanzia questa torre è stata demolita e da qui in poi è stato costruito tutto questo loggiato che conosciamo per trovare i fondamenti della struttura bisogna andare qua sotto e cioè nella cucina del ristorante in marcia come si chiamasse questa torre io non lo so ci sono delle indicazioni che permetterebbero di identificarla come la fantomatica torre di Roccabruna questo nome è un po' esotico però può essere anche che sia stata quella la torre certo è che è una torre di grandissimo interesse dopo vedremo a pochi metri di distanza incontriamo la torre davanti al vicolo di beccheria non è beccheria scusatemi ma insomma qui c'è questo vicolo e questo è il negozio mass si chiama la costella anche questo ha subito un fortissimo look poi ha sentito che ci sono stati dei crolli notevoli vedete le ghiere degli acchi sono state introdotte le pietre riadoperate eccetera quindi qui la città ha non dico infelito ma insomma ha prodotto delle modifiche di una certa di una certa di importanza poi ecco qui siamo in corrispondenza dei colonini della costella ve li sto indicando un altro è questo altri due sono questi questa foto è stata scattata una trentina di anni fa durante certi lavori non proprio oltre per passare dei cammi e questi lavori portarono alla luce il tratto delle mura che congiungevano la torre chiamiamola del negozio max con la torre a carici qui vicina e qui vedete ci sono evidenti questi muri di riede enormi che appunto rappresentano una delle testimonianze residuali perché mentre come vi dicevo le torre ci sono quasi tutte i satti delle mura sono entrati nel metabolismo dei palazzi e qui fortunosamente riemersero durante questi lavori ecco qui i nostri colonnini quindi le mura passavano qui sotto sicuramente erano più alte qui la città era chiusa e questa è la torre a carici anche lei soprelevata da questo punto in poi quindi può darsi che l'altezza originale di queste torre sia stata all'incirca all'incirca questa e qui comincia via di città la torre a carici è questa qua sotto ad una profondità di non meno di 5 metri c'è il vetro bottega della farmacia in campo ovvero una delle porti delle porte di accesso a questa città dal campo fuori all'interno di questa città e qui un documento ci aiuta a dargli un nome a questa porta sotterranea e potrebbe essere stata la porta di Malborghetta cioè nella zona di Manchi di sotto la porta di Malborghetta si meschia dalla parte di qua la porta di Malborghetta che poi ritroveremo per avermi ritroveremo anche in una verse più palliva più in basso per cui questa è la via di città con la torre del Bargero la torre dei Marescotti e di cui ho già parlato e quindi guardate vi voglio fare presente un fatto un ritengo importante legato al nostro parlociario perché è importante la città o meglio le strade dei traffici di questi trasporti eccetera perché il nostro parlociario quando entrava da questa porta raggiù il raggio di curvatura del suo parlociario non gli consentiva di fare una girata a angolo retto perché altrimenti i mozzi del suo carro avrebbero urtato lo spigolo e quindi per buona pace il proprietario del parso eccetera quindi il nostro parlociario aveva un suo raggio di curvatura entrava nella città e qui entrava con un raggio che gli permetteva di entrare in via di Algaria la via di Algaria era una strada parallela a questa che è a pochi metri di distanza da via di città è rimasta questa via di Algaria la si trova la si individua ci sono una serie di corti ci sono una serie di fatti però oggi il fatto è scomparsa perché è stata assorbita dentro i palazzi però ecco la sequenza di tanti fatti ci permette e questa via di Algaria è importantissima ma vorrei su questo non mi voglio dilunare ecco qui siamo alla torre del di Vio di Vargello questi sono i Mactasalaia sono una famiglia tra l'altro ancora la famiglia continua a vivere in questa zona è importantissima questa torre e qui accanto ora qui la foto non è presa qui questo palazzo è costruito sulla struttura di una porta che probabilmente si chiamava la porta della barca quindi entrava dal campo e accedeva a una città più antica da questa porta in ultimo l'ultima della serie è questa del palazzo del palazzo dei marescotti anche lei è stata superlevata se la dovete dirare un'occhiata di giorno si vede bene dove la torre è stata ulteriormente alzata e questa è una facciata settecentesca su un palazzo preesistente eccetera ma insomma queste sono versioni moderne di questi palazzi perché i palazzi che poi andarono addosso a queste mura non entravano nella via di città entravano di sotto entravano dalla parte diciamo del campo poi nel corso del tempo dismessa la via di Calcaria attivata la via quella che noi conosciamo in via di città allora realizzarono i loro accessi da via di città quindi c'è una sorta di capovolgimento di ingressi del resto è successo anche nel comune ma comunque e anche questa è tipica di adattamenti della città alle mura di sede sono decine e decine di casi come questo quindi sono delle sorti di chiavi di lettura di come sono cambiati i palazzi di come è cambiata la città eccetera dunque ora vedrete ecco noi siamo arrivati esattamente a questa torre alla torre dei chigi insomma del palazzo e gi questa è quella scomparsa dei figli di testa questa è quella della porta della varca il bargello i delci e poi insomma ecco vedete la torre e qui il tratto di un'ora di cui vi parlavo vi ho parlato prima con la torre la torre a Carigi qui c'è la farmacia del campo per i Carigi la torre a Carigi questa qui di cui non vi ho parlato ma ve ne parlerò in semito perché è una torre questa qui appartiene ai calderani che vengono vendevano ai consoli di mercanzia questa è quella invece se è la torre di Rocca Bruna ma meglio chiamarla la torre perché questa fu venduta dalla famiglia dei Melianda fu venduta ai consoli di mercanzia i quali ci crecero comunque parte del loro quartier generale anche questo lo vedremo Melianda è una famiglia potente che vendevano appunto ai consoli tutto questo questo pezzo di muro e questa e questa torre poi ecco questa è la torre di San Pietro sul piccio e il bico di San Pietro questa è quella degli Anconesani la porta del palazzo San Sedoni ora immagino avendo visto le foto di orientare meglio questa è quella del San Sedoni perché sono due in sostanza e questa è quella del palazzo Chigi tutta questa struttura terminava in questo complesso ora il disegno è del 2014 è una versione un po' carica perché questo edificio entrerà in un secondo momento in questo raggruppamento di torri e palazzo però ecco in gran parte oltretutto queste strutture esistono anche ancora oggi qui sopra c'è andato l'archivio l'archivio di San Pietro poi le mura continuavano eccetera eccetera queste ve l'ho già ve l'ho già indietro quindi quindi ecco ecco la parte che ci permette in qualche modo di dare una completezza a queste mura che hanno fatto un po' da da spina d'orzale ai palazzi di Piazza del Campo queste ormai le conosciamo vedete qui siamo alla Costarella questa è la struttura del C e poi questa ecco la la torre dei della 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 e cosa accade qui ho riportato anche di nuovo una parimetria della città perché questa è la farfalla del Gallacini come dicevo prima questi sono quei due ampliamenti della della città e qui siamo nei primissimi anni del 1200 tra pochi anni si sono insediati i consoli sono stati sostituiti dai podestà e il fatto più diciamo evidente di questo passaggio qual è? è che il Campo San Paolo i 42 metri che separavano le mura più antiche queste qui alla Costarella essendo uno spazio troppo angusto troppo stretto inducono a questo ampliamento della città che cosa fa? che porta dentro il Campo fuori scusate i giovani parola ma è così all'interno della città viene portato quel Campo fuori che diventerà la piazza del campo con lui in questi anni entrerà nella scena di una grande scena di urbanistica della storia di Seda il primo nucleo del palazzo comunale questo sul quale come ho detto prima è stato costruito il comune questo è un palazzo strategico importantissimo è il Borgano questo è l'edificio generatore sotto il palazzo del comune in questo punto venivano battute le monete perché da pochi decenni finalmente Siena è autorizzata a battere monete e questo produce un incremento nell'economia complessiva del comune notevolissima e poi a fianco in questo punto c'erano invece i magazzini scusate i locali della Dugana quindi la Dugana e la Zecca e questa fuscina dove si le monete rappresenta un edificio strategico importantissimo per la politica e l'economia del comune e a quel punto prima ancora di realizzare il programma viene realizzata questa nuova cerchia di mura che congiungi il palazzo piccolonico l'archivio di stato con il luogo qui vicissima alla torre marescolò questo è un tratto di mura che sopravvive in vari conti che presenta due porte una ancora esistente tra l'altro bellissima che ha le stesse dimensioni però diviso due della porta romana era fatta come porta romana ora qui nel disegno non c'è mai porta romana qui perché è stato individuato dopo questa prima un vivendino come porta romana un antiporto e le misure sono esattamente identi il rapporto è esattamente quello della 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 forma esattamente quello riporta ora poi all'interno in questo punto qui vedete si intravede una chiesa anche questa è importantissima una piccola chiesa che entra nei fossessi del comune e la chiesa di santo lucavo nei documenti qui siamo ancora nel costituto del 1262 insomma qui c'è ancora la vedremo meglio qui da vicino questa zona però mi ci voglio soffermare un attimo perché merita questa zona sotto il borgano sarà una zona chiave per tutto quello che accadrà poi nelle vicende costruttive del palazzo la cosa sostanziale ecco che queste mura ad esempio qui ci verrà appoggiato tutto l'edificio dove c'è il teatro dove sono dove c'erano le prigioni del comune la sala del consiglio tutto il palazzo che oggi è il teatro dei rinnovati queste mura salivano tutti in casale e venivano a trovare questa zona vicina al 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 palazzo Egi e al tempo stesso sempre di colore verde vedete è riportato il secondo ampliamento cioè questo qui è rosso ma insomma la forma è la stessa vedete ecco questo nuovo perimetro di mura che fortunatamente mentre per il primo per questo la sua individuazione è più ardua perché si vedono meno bisogna entrare in determinati luoghi eccetera questo perimetro qui è più evidente qui guardate ci sono una serie di porte questa è sulla Galluzza esiste quasi tutta questa è una seconda porta indicata come la porta di Valle Piatta di sotto e qui davanti c'è la stalla della contrada della selva siamo nel vicolo delle carrozze sì via le carrozze e questo è il vicolo delle carrozze questo punto di lato quindi le mura fanno questo giro qui siamo in via di Valle Piatta queste mura trovavano una torre che in buona parte c'è anche oggi una porta la porta di San Sebastiano la quale porta dove vi sto indicando l'ingresso della società della contrada della selva e questo rivellino qui invece l'indicato qui c'è la sala bar della società della contrada della selva questo per dirvi come queste strutture sono rimaste e sono identitarie le mura continuavano anche queste ci sono anche questo tratto esiste qui c'è un tratto che non esiste più però c'è una parete tagliata che sovrasta la fontanina della contrada della selva siamo un piazzetta della selva non so se avete visto c'è un muro tagliato a scarpola sono le mura che poi continuano dentro la facciata dell'ospedale di santa maria della scarpola questa torre eccetera quindi ripeto queste mura entrano in scena nei primi anni del 1200 all'isale del secolo con il sono sostituite da una nuova cerchia di mura che porterà tutta la zona del mercato all'interno della città siamo in via del sole siamo sotto salicotto siamo fino poi per arrivare a San Maurizio per arrivare a ponte di Romano ma quelle sono mura che ripeto entreranno in scena solo e sono queste capite ecco vedete sono queste però entreranno in scena solo alla metà del 200 nei primi del 200 c'è proprio questo tratto di cui vi ho parlato vi ho parlato vi ho parlato ecco questa è una riproposizione perché qui si vede ecco il palazzo della del l'archivio di Stato queste mura sono qui dentro guardate fortunosamente vedete questo edificio che vi sto andando ora un po' più chiaro questo è costruito sopra il rivettino della porta la porta è questa e poi sopraelevando la torre ecco la torre è questa qui ed è l'edificio più alto di tutti quelli che sovrastano la zona del porrione la zona la zona quindi della chiesa di San Martino le mura scendevano ecco il teatro che è appoggiato su queste su queste mura su queste murami poi questa porta che ho indicato di possibile di malcucinato in derivazione dalla strada qui siamo nell'ingresso del palazzo che abbiamo visto prima quindi prima ancora di stare corto per dire malcucinato a un certo punto è stata questa va bene manco ma prima ecco che malcucinato oggi noi sul prolungamento di questa strada troviamo un vicolo della fortuna quindi c'è una continuità i nostri padrociari dovevano avere strade più continue più lineari possibili perché si potessero muovere all'interno della città qui si attraversa piazza del mercato questo tratto non esiste più come non esiste più quasi questa porta se non la parete questa parete chiamiamola di sinistra sì di sinistra e poi le mura che salgono verso il casato e si concludono vicissime alla alla forre dei marescotti che abbiamo dove si incontra una particolarità che in qualche maniera ci rende più percettibile questo intervento di una certa importanza ripeto perché portò all'interno della città il campo qui c'è un'altra cosa che voglio sottolineare ormai queste sono le mura delle corri scusate di cui abbiamo parlato per arrivare qui alla costarella e di fronte ecco un altro elemento che contribuisce a dare consistenza a quella lettura della porta di Marco Cicinato all'interno dell'ingresso del palazzo San Sedono qual è è la presenza di questa torre la torre 7 e questa è la torre di Serravalle questa torre esiste ancora integra è stata restaurata in cima però esiste alta 26 metri e ci denuncia che cosa anche questo è un repertorio difensivo che caratterizza tanti punti di Siena che vuoi dire che ci sono tante torre che hanno davanti a sé una torre e questa torre a che serviva serviva ai difensori della città a tirare le ultime sassate a chi a coloro che avessero forzato e sfondato la porta che era davanti alla torre è una sorta di estrema difesa ma sono diversi i casi di torre come questa che si vedono si possono leggere proprio in funzione di questo loro scopo quindi ecco che questa zona di Siena è interessantissima guardate se non altro perché quando tornando un passo dietro quando queste mura chiusero questa zona qua la zona di calzoleria la zona di Piazza Solomere eccetera questa zona a differenza degli altri di Siena era ricchissima come lo è anche oggi di acqua qui ci sono una serie di pozzi che arrivano a tingere nelle falde freatme totalmente profondi per cui non è che sono scisterne sono veri e propri pozzi io l'ho indicati ora qui no ma scusate sono presenti qui e sono estremamente interessanti da soli occupano un argomento di grande intellettura specialmente in una città che si è dovuta ingegnare per trovare l'acqua qui quindi tutta una serie di vicissi tutti quindi ripeto non mi voglio non mi voglio dirumare però un'altra sottolineatura la voglio fare il borgano che viene costruito nel 1246 quindi una quarantina d'anni dopo che le mura erano state realizzate sostituì un'altra azzecca un altro ambiente dove veniva battuta moneta che si trovava in quei 43 metri di cui vi ho parlato tra la costarella dei barbieri e la piaggia della monta e qui noi troviamo io ho indicato il primo palazzo del comune perché i documenti ci forniscono delle indicazioni in merito ad un certo palazzo che viene comprato sul quale viene fatta una torre chiamata la torre delle campane questa torre esiste questo palazzo esiste e fino a poco tempo fa questo palazzo era a piano sequeno su via dei pellegrini era occupato da un negozio di scarte per bambini oggi vendono acqua non so se acqua non lo so profumi legge ecco ebbene in quel palazzo se lo guardate possiamo individuare il primo palazzo del comune perché perché ancora per quanto sia nei documenti questo è semplicemente il volgamo non è il palazzo del comune e quindi siamo nella seconda metà del 200 il il campo comincia a essere non solo lo spazio protetto lo spazio strategico con le sue funzioni dovuto sia proprio all'effetto protettivo di questa nuova cerchia qui siamo in poco prima del palazzo dell'accademia ficiata sulla via di città questo è l'ingresso degli uffici tecnici del comune qui c'è un vicolo strepitoso bellissimo che è figlio di questa mutazione e qui io ho simulato vedete su questa foto ricostruita non solo la torre dei marescotti ma ho simulato poi la torre dei fietti di testa qui c'è l'ingresso dell'ufficio tecnico altri negozi e ho simulato una sorta di rovina una breccia in modo tale da poter osservare quello che si poteva vedere o che si sarebbe potuto vedere al di là di questa breccia in questo particolare momento cioè quando viene realizzata la cerchia di mura che partiva insomma dall'area del del palazzo dell'archivio di Stato straghezzava la piazza del campo e il campo di valle e risaliva verso è stata ricostruita questa immagine questo è pazzo di cui vi ho parlato ora da su in cima ci stavano i famigli dei potestati i famigli insomma di tutta la corte dei giudici che supportavano il potestato nella sua funzione al di sotto appunto la sala del consiglio eccetera e quindi è questa ma prima ancora che fosse realizzata questa parte del comune le mura scendevano dal palazzo Marescotti scendevano e questa parete questo palazzo la parete di questo palazzo è costruita su queste mura qui ora dove vi sto indicando c'è un bar dell'amico Montermini che è stato aperto da poco in piazza del mercato ebbene lui questo locale del bar condivide con questa porta che non esiste più solo questa parete questa parete poi ecco le mura attraversavano la piazza qui hanno ricevuto l'appoggio del palazzo delle carceri salivano verso quella porta di Marescinato e poi andavano a ricongiungersi verso il palazzo il palazzo dei Corbi questa è la chiesa di San Luca o Ducaro qui indicata perché ancora è il Costituto del 1262 che ci permette di localizzare in questa zona non solo la chiesa ma anche l'ospedale della Misericordia questo edificio che è gestito dal comune di cui non c'è più traccia probabilmente è rimasto sotto la piazza qui la piazza del mercato questi sono edifici che hanno avuto che hanno continuato ad avere per tutto il Trecento un'importanza papevole perché il comune li ha finanziati per l'attività assistenziale che fornivano insieme all'ospedale in Santa Maria eccetera quindi c'è tutto un pacchetto di grande interesse legato a questo nuovo poi qua in fondo in questa zona qui ecco dove vi sto dicando ora ci passa via questa è la via di Sanicotto ovvero di Marcoscinato in tempo questi palazzi non esistono perché perché c'è andato sopra il comune sono i palazzi degli Arzocchi il comune acquisì la fine del Dugento dai figli di Ventura Arzocchi dei palazzi importantissimi e forse ci sono rimasti perché malgrado il comune gli sia andato sopra se si va nei magazzini del sale se si va nei sotterranei del comune i palazzi dei figli di Ventura Arzocchi si individuano e si individuano anche un magazzino come col solito pilastro centrale insomma tutto un trasforzo di una città che si è sovrapposta a questo edificio qui tenete conto ecco che la foto ora il comune arriva a questo punto quindi arriva arriva qui però nella parte più interna questo è il volgano dell'edificio di cui ho parlato anche lui emerge in maniera molto residuale perché per esempio nella scava dei magazzini il sale si intravede la ghiera di un arco e questa ghiera è importante perché è particolare nel senso che ha l'appoggio dell'arco stretto poi via via che sale si allarga vorrei dire quasi l'influenza s'amoresca questo arco e ci rimanda a un edificio questo del burgano di buona qualità architettonica per quanto sia stato devastato da quello che gli è successo però dove rimangono delle tracce delle particolarità queste ci dicono che il burgano era un edificio di ottima qualità architettonica malgrado facesse fumo malgrado ci fossero condizioni di pieno di lavoro non molto in sicurezza quindi era un edificio e io lo riprodotto a vedere sul lato appunto della zecca che è questo poi in questa immagine compare l'interno qui ora ci sono le monture del corteo e solo dentro la chiesa di San Mar per cui ecco questa è una particolarità quindi non tutto è scomparso di questo mondo a valle del palazzo comunale poi rapidamente a concludere quasi rapidamente a concludere qui c'è un'immagine un po' metafisica nel senso che se queste mura ancora esistessero se non si vedete demoliti per fare via di mal cucinato cioè il salicotto se esistesse lo ritroveremo esattamente in questo punto nella loro prosecuzione verso l'archivio di Stato naturalmente poi non esistere qui c'è una riproposizione invece di queste mura che salgono questo è l'ipotetica porta di mal cucinato con il suo rivellino che è salita fino qua su fino a comporre come dicevo un edificio più alto di tutti e cosa rimane oltre alla struttura della porta visibile nei fondi del progetto palazzo rimane una traccia importantissima di una strada che la servina e questa strada qui siamo alla lupa di San Martino come vedete qui c'è un portone qui è chiuso ma se noi lo avessimo entreremo in un corridoio e cioè entreremo lungo la strada questa strada qui che dal palazzo di Anseloni vedete entrava in questa porta e proseguiva qui in vicolo della fruttura vedete quindi ecco questo è un luogo ancora sotto osservazione però i miei che sono emersi mi permettono di parteciparmi di queste cose con ritengo un buon grado di sostenibilità ecco qui c'è una riproposizione di nuovo però per perché per avviarsi a concludere con le mura che abbiamo visto l'ultima cerchia che portò dentro la piazza comincia il processo di dismissione di questo arco dice questo arco che è stato l'oggetto del nostro viaggio queste cose sostanzialmente vanno in pensione ma in che modo cioè vanno in pensione negli interessi del comune perché il comune le cose fa lottizza vende apporziona fraziona vende in genere un pezzo di mura e una torre su queste mura ci vengono costruiti i primi edifici e ne abbiamo un esempio un esempio qui nella torre San Sedoni il nostro Tarca di Monataca compra da Aghina questa casa compra un palazzo un palazzo con una torre con un pezzo di muro poi che cosa fa? quella tarnaia di cui vi ho parlato questa viene sopravvanzata entra nel possesso dei San Sedoni e viene fatta una corte questa corte arriva fino al limite della casa quindi questo è uno dei tanti frazionamenti a cui tutto questo arco di mura viene sottoposto un altro interessantissimo e qui bisogna ringraziare Ambrosio perché ci ha lasciato un documento stretto perché che in effetti è il buon governo ci ha lasciato il palazzo ci ha lasciato la torre lungo il vicolo di San Paolo che abbiamo visto prima in dove ora c'è raffigurato vedete qui questo docente che fa lezioni ai mercanti qui oggi noi abbiamo la scala del vicolo di San Paolo che abbiamo visto prima quindi questa torre forse ma sicuramente dei Medianda viene acquisita dai consoli di mercanzia insieme a tutto questo palazzo fino a qui escluso questa torre che rimane nei possessi dei gallerari ora dentro al piede di questa torre sul via di città davanti al negozio di Cioccoani c'è un piccolo bar che fa un ottimo bambino questo per capirsi perché bisogna e quindi siamo in questo punto il muso del cavallo che qui sparisce da un angolo è davanti alla caffetteria per capire quindi nel 1338 quando Ambrosio Lorenzini dipinge il suo congorello dipinge quello che vede e cosa vede? vede questa torre comprata da Medianda vede quest'arco con il suo docente vede questo palazzo che arriva fino al limite della piazza eccolo qui e questo si vede in casa e lui insieme a questo dei San Sedoni costituiranno un altro palazzo di forze dei San Sedoni e qui c'è il battaglio per capire costituiscono il limite lungo il quale si fermeranno i palazzi che andranno a comporre la grande punta che oggi si affaccia sulla piazza del campo qui siamo in una fase nascente siamo cioè nel periodo nella prima metà del 200 in cui il comune per fare cassa per così vendendo le porzioni di nuova fa cassa e può realizzare altre cerchie e vengono la mattina di la mattina di quindi questo ecco questo è per dirvi e infine ecco una sintesi una breve sintesi riprendendo le nostre nuova sempre rapportandole ad una immagine solveare noi i nostri corredini di piazza di spicchi per capire quindi noi abbiamo visto la sicurezza di queste corredini abbiamo visto l'addossarsi di palazzi i primi palazzi fra la torre e l'una una strada al piede l'antica carbonaria poi il nascere di palazzi tra la prima strada e i limiti dei primi palazzi con queste aggregazioni probabilmente a corte eccetera e infine quella che conosciamo noi questa saldatura e questa integrazione di case vicoli eccetera eccetera che poi costituisce appunto la grande quinta che chiude l'arco della piazza del campo a noi e che ha dentro di sé tutta una serie di documenti di messaggi di fatti che se letti nella loro singolarità ci permettono un po' di ricondurre questa lettura in maniera un po' più mi amo ecco che queste cose a cui vi ho partecipato vi permettono di vedere un po' questa la grande vita della piazza del campo con occhi un po' diversi io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per la popolità vi ringrazio Duccio nella sua mese ufficiale e ringrazio l'amico nome ecologico che ha condiviso spesso questi viaggi sopra e sotto e poi anche il suo apporto tecnico a tutta questa rifiuta grazie 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 grazie